Oggi siamo a far volare Gravuria con Smarty al Parco Lambro, alla quale piace tantissimo rotolarsi nel territorio che sarà occupato dal volo di Gravuria. E adesso vediamo come Gravuria si alza e Smarty partecipa a questa cosa e viene presa al guinzaglio. Aiuto! Gravuria vola perfettamente e ha tantissimo spazio soprattutto per volare Aiuto! Sì, sì. Sì, sì. Adesso farò foto a gravuria perché anch'io voglio avere...